Vieni, Aurelio, vieni. Presidente, permesso, permesso. No, no, però fai per le mani addosso. Ma senta, allora, scostatemi da una persona anziana. Come andate? Come andate? Come andate? Come andate? Bari merita rispetto, Presidente. Qualcosa ce l'arrivo, no? Non ci dica qualcosa, Presidente. Bari merita rispetto, Presidente. Se lo faccia dire da Conte. Bari merita rispetto, Presidente.